Non posso non dire che è bravo, non posso non dire che è molto bravo, perché è il mio capogruppo al Senato, centinaio, vieni qua! Allora, vice sindaco a Pavia per cinque anni, poi diventato... Quattro perché c'è lì il mio erede. Ah, bene, Mognaschi, ciao, ci vedremo queste sere, ti daremo la possibilità di intervenire dal palco. Ha fatto una battaglia sulla ludopatia, ha fatto una battaglia sul cane norai che non deve pagare nessuno e poi, se forse ve lo ricordate, il nostro presidente Grasso a un certo punto aveva dimenticato quelli che sono i regolamenti e lui ha pensato bene di tirarglielo direttamente. Quindi un grande applauso, centinaio! Grazie Nunzio, grazie a tutti, innanzitutto grazie perché una serata così tra Natale e Capodanno penso che ce la sognavamo e solamente qui la potevamo trovare. Quindi grazie a tutti voi che siete qui, grazie ai bergamaschi, ma soprattutto grazie a chi ha raggiunto questa zona dalle terre più lontane. Io posso fare un po' il partigiano perché ho qui una buona parte della provincia di Pavia, quindi li ringrazio tantissimo che sono venuti con me. Grazie ragazzi, grazie soprattutto perché lui dice che sono bravo, io non sono bravo, io sto coordinando un gruppo di bravi e quindi vi chiedo solamente una cosa, un applauso ai 15 senatori della Lega Nord che in Senato si fanno un mazzo così tutti i giorni e che sono largine, io l'ho detto in più di un'occasione, largine al renzismo, largine alle schifezze che questo Presidente del Consiglio ci vuole proporre. Quattro svuotacarceri dove sono stati depenalizzati una serie di reati tra cui il furto, lo spaccio, c'è un elenco infinito di reati che questo Presidente del Consiglio schifoso sta cercando di portare avanti. Perché noi siamo contro questo Presidente del Consiglio? Semplicemente perché noi stiamo dalla parte di Abele e lui sta dalla parte di Caino, semplicemente perché noi stiamo dalla parte dei cittadini onesti che pagano le tasse e non degli ultimi arrivati che arrivano qua e pensano di arrivare a casa nostra facendo quello che vogliono. Perché noi siamo dalla parte di chi crede ancora che il presepe sia un valore e non dei colleghi del Partito Democratico che mettono il presepe con due San Giuseppe oppure con quella che scrive su Facebook dicendo che il presepe, la famiglia di Nazart era una famiglia anomala e Gesù ne ha dette più di che Berbertoldo. Noi siamo per quello che vogliono i cittadini, in più di un'occasione ci hanno detto che siamo dei populisti, se essere dei populisti vuol dire essere dalla parte del popolo, noi siamo dei populisti e quindi siamo anti Renzi, sempre e comunque. Grazie.